I carabinieri di Colli al Metauro hanno arrestato una 28enne originaria di Narni ma residente a Foligno per furto in abitazione. La donna era al momento ospitata dalla sorella Cartoceto dove risiede da diversi anni che l'aveva accolta conoscendone bene la sua situazione precaria e di dipendenza dalla droga avendo anche appreso dalla 28enne di essere stata lasciata dalla convivente ma in realtà non era così lo scopo della giovane era cercare buone occasioni per arraffare denaro ed oggetti per sfamare la sua crescente fame di droga. Approfittando di una momentanea visita della vicina di casa alla benevola ed ignara sorella la 28enne ha approfittato dell'occasione per entrare nella casa della vicina ed arraffare tutto il possibile ma si dice che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi ed infatti la giovane ladra è riuscita sì nel frattempo a mettere in atto il furto all'ignara vicina di casa in visita alla sorella portandogli via dalla borsa lasciata in casa i soldi contenuti nel borsellino ma la sua proprietaria è rientrata anzitempo facendo fare alla ladra una precipitosa fuga dalla finestra. La vicina derubata però si è insospettita dei rumori e ha scoperto la sorella della vicina in flagranza conoscendo poi le sue cattive abitudini ha fatto due più due e accortosi che dalla borsa mancavano i soldi ha chiamato immediatamente il 112. Da lì a poco sono arrivati i carabinieri di Colli al Metauro che dopo le indagini l'hanno arrestata per furto e tentato furto in abitazione. Oggi si è celebrata l'udienza di convalida davanti al giudice del tribunale di Pesaro dove la giovane ha patteggiato la pena di un anno e mezzo di reclusione ed una multa di 600 euro con l'obbligo però di intraprendere un percorso riabilitativo presso una struttura di Foligno.